Si ripose in cammino, punto. Gli occorreva ora dare tutta la sua attenzione al sentiero. Dai che finalmente, ricomincia bim bum bam! E sicuramente adesso non ci divertiamo. E il di effervescente, accende tutte le tv. Dice sempre, ha una marcia in più. E' la trasmissione fatta apposta per noi. Mamma mia che spavolo, bim bum bam! E' il programma dove trovi quello che vuoi. Bim bum bam, è per chi vuoi giocare. Bim bum bam, è per chi vuoi studiare. Bim bum bam, è per sognare se la vuoi. Tutto quel che vuoi tu, puoi trovarlo in tv. Quando è l'onda, bim bum bam, è così divertente che si ride di più. Quando è l'onda, bim bum bam, ci sei sempre anche tu a guardare la tv. Quando è l'onda, bim bum bam, è così prorobente che si ride di più. Quando è l'onda, bim bum bam, bim bum bam, bim bum bam. Bim bum bam, è per un Playboy. Li con un'onda, bim bum bam, bim bum bam. Grazie a tutti